Questa è la Serie B Win. Comincia ora Juve Stabia-Reggina con la Juve Stabia in possesso di palla. Bavilla al centro. Il pallone controllato da Nocchi. Il tentativo da lontano. Abbastanza pretenzioso. Arriba Caserta al destro. C'è la spizzata e poi il Baiocco. Centro dell'area. Baiocco. Gorzegno. Cos in mezzo. Arriva Acostì. Può battere a rete. Balla dentro. Melara. Bavà col destro. Alto. Sopra la traversa. Tocco corto. È uno schema. Posizione irregolare. L'arbitro va verso la panchina della Regina. E va ad espellere Dionigi. Armellino. L'altro corto dell'area di rigore. Vediamo se la mette in mezzo. no? Barillapro va in sinistro. Lontano dalla porta. Caserta con l'esterno. Contrato da Etemaio. Ancora Caserta. Alla caccia del pallone. Non c'è fallo. È buona l'azione del numero dieci che va a crossare. Il cross arriva a Fisnaller. Esterno della rete. Terpen. Si gira col sinistro. La traversa. Occasione incredibile per la Juve Stabia. C'è mezzo Mezzavilla. Però un soffio. Non ci arriva. Caserta. Poi Cellini. La palla è buona. Ancora Cellini. Caserta. Tiro. Barate. Poi Caserta. Porta in vantaggio la Juve Stabia. Arriva ora il fischio finale. Barillapro. Ammonito. Il quarto Ammonito per la regina. Vince la Juve Stabia.